aveva accettato e morì 50 anni aveva accorto 9 anni ha accorto 9 anni poi scattere cittadino va a ricordare le carrua che buono i tiri va a ricordare le carrua non lo ricordiamo noi ci ricordiamo tutti i tiri tra le carrua quante tiri? i tiri? bravo e in giù è proprio così il più forte che era il più forte era in giù che spaccava il figlio spaccava no no spaccava delle volte quando quando c'è mentire no quando piava in piena spaccava si 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 ci 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 c'è e poi ci in ci 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 una Per quanto riguarda i frutti? Sì, sì. Abbiamo detto che i frutti hanno visto queste cose... Avevano un mestolo... Avevano un mestolo. Avevano ancora i figli. Avevano ancora i figli. Avevano ancora i figli... Avevano anche i figli. Sì, era un figli. Sì, era un figli. Non è un figli. Non è un figlio.